Le tre partite che ci hanno preceduto sono state condite a due vittorie, una partita difficile contro la squadra campione d'Italia. Le due vittorie ci hanno aiutato a rialzare il molare della squadra e a far capire quanto possiamo valere, anche se siamo solo ragazzi di 17-18 anni che possono dare filo da torcere a tutte le squadre. Invece a Conversano abbiamo trovato una squadra forte, molto fisica e che sa spezzare bene la partita. Le ultime settimane insieme sono le ultime settimane che ci rimarranno di felicità di questo progetto e stiamo cercando tutti di viverle al meglio, soprattutto a pensare alle ultime due partite e cercare di vincere entrambe, anche se non sarà facile. Fasano sarà una partita molto tosta, siccome è in zona play-off e sicuramente non vorrà perdere contro noi, anche se è già ai play-off per il campionato, però noi ce la giocheremo e vedremo loro cosa faranno. Grazie a tutti.